Bella a tutti ragazzi, io sono Alvea che oggi come primo video voglio mostrarvi l'avventura che io faccio tutte le mattine per andare in stream house e come vedete le intemperie non ci fermano, Milano è allagata, sono le 6.40 Tutte le mattine io partirò da Milano per andare a Bologna Faccio vedere la prima tappa, seguitemi tutti Prima di andare avanti non dimenticarti di lasciare un bel pollicione qua sotto e un bel commentino per sapere se ti è piaciuto questo video Andiamo nella prima tappa del mio viaggio verso Bologna La prima tappa la facciamo al bar di famiglia, crioscina calda Un bel cafferino, mia sorella, mio cugnato, dove siete? Oh, chi siete? Allora, ma da f***a Ci siamo, ci siamo, mamma mia, guarda quella lì Siamo svegli alle 6.40 Quindi adesso biviamo un bel caffè, poi dopo enjoy e si va alla stazione centrale Anzi, mentre ero qui a facciazione, guardate cosa ho trovato È incredibile Guardate che te E adesso io faccio un pollo scherzo a mia sorella Poi mai sta cagata Bene ragazzi, dopo la colazione al bar adesso andiamo in direzione stazione centrale con la nostra fantastica enjoy Innanzitutto grazie enjoy per avermi evitato ore di metropolitana, vi voglio bene, grazie Siamo arrivati alla stazione centrale, adesso andiamo a prendere il treno Il tempo non ci aiuta per niente ragazzi, Milano oggi, diluvio universale Meglio che mi muovo che siamo in ritardo È arrivato il nostro treno ragazzi, l'ho preso in orario Siamo arrivati a Bologna centrale, adesso andiamo a prendere un bel taxi e ce ne andiamo a casa Adesso come arriviamo gli faccio uno scherzo perché i b***i stanno sicuramente dormendo Quindi li svegliamo insieme Siamo arrivati a casa E li sveglio nel peggior modo possibile Ci resta attaccato Oh, guarda suono Ma è un sacco del citofono Ah no, sta squillando Li uccido Dai, coraggio Su La mattina l'ora in bocca Buongiorno Tecnoid Ma quindi qua si sono mangiati tutti i semi? No, ne hanno rubato i semi Ne hanno rubato i semi Perché ragazzi dovete sapere che ieri Allora guardate come era messo di là Ok? Loro hanno fatto tutto questo meraviglioso lavoro per piantare l'erba Prima tolto le erbacce Poi ribaltato il terreno Cioè, non sa che bene, capisci? Io ho anche tutte le cose Guarda, tu ti tagli Bello, ti sei spaccato per bene Allora, poi abbiamo seminato il campo Una volta che abbiamo seminato il campo Le formiche prima si erano nascoste sotto terra Perciò noi non le vedevamo Qui dopo ci siamo Cioè, dopo un'oretta sono tornato E metà dei semi Se tu vedi qua Mi fatti vedere un esemplare di formiche Con in mano i semi Che se li stanno andando a portare via, vedi? Che semi E se li portano tutti via Guarda, guarda questa Guarda questa Sì, sì Tra l'altro loro hanno messo il peperoncino per terra Ma non lo sanno che queste sono formiche Che ho portato io dalla Calabria Oh Quindi Ci sono portato anche il peperoncino Alla fine ci ha messo questo Giusto che non so che cos'è In teoria per tenerle lontane No, si stanno immagazzinando No, stanno andando proprio là dentro Guarda Sì, sì Te l'ho detto, fratto Gli hanno messo proprio sopra il nido Invece loro fanno il buco Che roba Guarda quanti ne hanno Sì, sì, sì Ma ieri qua era pieno di semini Sono rimasti solamente i semini Quelli che si sono attaccati al fango Quelli non li riescono a prendere Invece tutto il resto Guarda che ti voglio far vedere Tipo un agglomerato proprio di semi Era lì tipo Esatto, bravo Perché il resto se lo sono già portati sotto terra Capito? Cioè ieri c'era Guarda qua, guarda qua Guarda qua Guarda quanti Eccoli qua i semi Vedi? Cioè tutti questi semi Fai quanto che dirà Era pieno Loro immagazzinano qua E poi dopo si li portano sotto terra Perciò Detto in poche parole Streamhouse sta dando da mangiare Queste formiche E in inverno ne avranno Capito? Saranno bene Questa È quella dello zio Zibli Boh manca questa eh Giusta Oh ci sono le scrivanie Chi è? Ah non lo so Che c***o vuoi? Ma che bravi che sono Vai Sono arrivato le scrivanie Tu non fai niente? Guarda che pesa un botto Vuoi una mano? Su Devo registrare Non va bene che tu Non ci sei nel video Quindi vai ad aiutare No Non va bene così Allora io Allora io No Vai Mi sto dando una mano Vi sto dando una mano Dai ragazzi Dai Su Dai Dai No 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 Prova a tenere Prova solo Prova solo Eh no Oh Fra pesa! Non fa nulla! Però ha pesato tantissimo! Vai vai vai! Oh Dio! Ma come ho fatto a sollevarlo? Eh siamo forzunti! Oh sbri vai! Era una finta non pesa niente! Però l'avete usato per chiudere qua sopra! Vabbè ma potevi comunque mettere a posto tutto! Io devo metterlo a posto! Però hai detto che ci sarebbe stato costruito! Sei quello più grande e responsabile! No Fra guarda che quelli là io li ho lasciati che erano ancora attaccati! Appunto! Li avete fatti cadere voi! Ma voi hai detto che chiamavi il camion e li prendeva i portati? Il? E ci toccaveva prendere la scrivania grande! io ero presa nera Sissio vai Sissio da solo Sissio ma che da solo? aiutalo vai Sissio t'aiuto la scala non devi ripagare Sissio o un raggio coraggio ma vado ad aiutare il poverino Sissio oh dili aiutami vai Sissio dai 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 che favorosissio dai oh oh ma io non posso fare affidamento neanche se un giovane ci pensate ragazzi ci pensate via via questa raga come minimo si sboga la spalla la scala si riesce vai vai un attimo hai un tappo di succo vai 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 quello che è jou dovrei montarle un po altro dai nel po non sto facendo niente hai rotto il legno hai rotto il legno l'ho sentito il legno l'ho sentito il legno ha sbagliato il legno l'hai spaccato le mani l'hai spaccato il legno sotto ah no è il polistirolo dovete andare a prendere il respiratore ma va a cagare guarda mamma è arrivata la scrivania adesso la preparo e gli metto sopra tutto bomba veramente a proposito allora insieme alla l'aiuto di Sissi e Usa abbiamo finito ragazzi ve l'ho fatta vedere prima montata adesso ve lo faccio vedere finita guardate che bomba ragazzi ragazzi sono appena arrivato ma questo funziona? ma qui posso ma buona come è? allora le scrivaglie sono dei flexi spot dovete sapere che dal 28 agosto al primo settembre troverete gli sconti fino a 300 euro quindi mi raccomando tutti quanti andate a comprare dal 28 al primo settembre dovete sapere che avete nei primi dieci ordini del 28 agosto 31 agosto e primo settembre avete la possibilità di fare il rimborso ma perché l'abbassare il braccio? il rimborso completo i primi dieci ordini del giorno dalle dieci del mattino in poi e mi raccomando iscrivetevi perché avrete la possibilità di vincere un cuore un cuore